Allora, abbiamo capito che ci sono stati dei problemi tra MAC e Iveco, l'ha promesso una rita dei lavoratori? Non è che l'ha promesso Iveco, nel 98 abbiamo fatto un accordo dopo 60 ore di sciopero nel quale, quando Iveco ha incominciato a terziarizzare, allora era MAC, era il reparto press e il reparto plastica, facciamo questo accordo dopo 60 ore di sciopero nel quale c'era scritto che in caso di criticità industriali Iveco avrebbe comunque avuto la responsabilità di riassorbire o il lavoratorio o di trovare una soluzione non traumatica alla situazione. In una fase di crisi così, Iveco non ti dice di no, però non rispetta quell'accordo perché ha già un'eccedenza di personale legato alla crisi del camion e dice io in questo momento non sono in grado di poter riassorbire tutti i 154 lavoratori di MAC. Poi secondo noi ci sono altri problemi perché MAC lei dice che ha una perdita economica legata ai costi fissi, calando la produzione aumentano i costi fissi e dice ha una perdita economica di 500 mila euro al mese e siccome Iveco non mi abbassa i costi fissi perché dipende tutta da Iveco per quanto riguarda gli impianti, la corrente, i servizi, mense e via dicendo, poi dice io porto tutto a Chiavasso, a Torino. Per noi questo è inaccettabile, bisogna trovare una soluzione, dal nostro punto di vista sarebbe anche uno degli ultimi reparti dove c'è un certo tipo di professionalità e rimarrebbe la fabbrica cosiddetta cacciavita e tutto montaggio e vasta, dando via lo stampaggio rimane poco. Allora per noi è inconcepibile prima di tutto che vengano portati via il lavoro da Brescia a Chiavasso e in più pensiamo che Iveco si debba assumere le proprie responsabilità di fronte a questi lavoratori. Questo è quello che c'è in giro, dopo vediamo, da settembre che siamo qua. E dal punto di vista, cioè da settembre siete come ma, sono i ragazzi, i lavoratori dell'Iveco, come partecipa l'amministrazione della Brescia? Allora i lavoratori dell'Iveco dopo tanta cassa integrazione hanno cominciato a rientrare alla spicciolata dall'inizio di ottobre, facciamo su alcuni reparti tra l'altro un turno solo, per cui ne sono dentro 1.500 e ne sono fuori 1.000, oppure ce ne sono dentro 1.000 e ne sono fuori 1.500 in base ai giorni di cassa integrazione, però ad esempio ieri dove c'è stata una forzatura da parte di MAC per fare entrare i camion, per caricare quello che sono gli stampi o altre cose, c'è stato anche uno sciopero indetto in due grossi reparti, sono il reparto bardature e il reparto verniciatura e i lavoratori dell'Iveco hanno risposto molto molto bene, incominciano anche loro adesso perché non siamo ancora riusciti, tutti è stato in grado di fare delle assemblee per poter spiegare ai lavoratori cosa sta succedendo perché siamo entrati tutti alla spicciolata in questo ultimo mese che è ottobre, tieni conto che noi è da ottobre del 2008 che siamo tutti in cassa integrazione, lavoriamo 1-2 settimane al mese e da luglio siamo stati fuori fino a metà ottobre tutti, perché stiamo facendo una ristrutturazione sulle linee di montaggio e di conseguenza stiamo rientrando un po' tutti adesso e adesso incominciano anche loro a rendersi conto, perché anche noi delegati rientriamo in fabbrica nei reparti e spieghiamo loro cosa sta succedendo, oltre a quello che leggono sui giornali, poi lì è sempre difficile sui giornali capire bene in realtà cosa sta succedendo perché il taglio che vengono dati agli articoli a volte non sono sempre molto veritieri rispetto alla realtà. Senti un po', che relazione allora c'è stata tra la crisi economica e la ristrutturazione che è stata fatta qua l'Iveco? No, la crisi economica c'è e l'abbiamo vista nel 2008, ottobre 2008 col calo dei volumi, Iveco cosa dice? Iveco dice che ho bisogno di ristrutturare perché in questa fase ne approfitto per spendere dei soldi, per ristrutturare, a modernare gli impianti in modo tale di essere pronti per rilanciarsi sul mercato quando l'economia ripartirà. E anche qui abbiamo avuto un accordo, abbiamo fatto un accordo perché naturalmente quando Iveco dice ristrutturare poi pensa tutto il resto, alle pause, ai tempi di lavoro e così dicendo. Abbiamo fatto un accordo molto tribulato anche qua, però è andato in fidi bene, adesso stanno i delegati a riuscire a far rispettare l'accordo, Iveco si è assumesso le responsabilità e lei ne ha approfittato in questa fase di calo produttivo per poter rimodernare gli impianti. La relazione è quella, calo produttivo ci butto due soldi, il fatto che abbiano scelto Brescia per fare degli investimenti a noi è stata una cosa anche sofferta dal punto di vista dell'accordo, però l'abbiamo fatto. E invece con i lavoratori di Chivasso c'è qualche contatto? No, noi delegati personalmente no, forse i funzionari così, però lì c'è il coordinamento con Torino, quei delegati dalla Fiat e via dicendo, noi personalmente no, noi delegati no. Però il discorso quindi della competizione tra lavoratori è passato qua? No, è diversa la discussione perché non è morta tua vita mia, noi qua una produzione ce l'abbiamo già e deve rimanere qua, perché siccome stampa per tutto il nostro stabilimento, non ha una ragione secondo noi neanche economica spostare tutto Chivasso per poi portare qua di nuovo le lamiere, non c'è questa discussione in ballo, qui non l'abbiamo mai vissuta così, c'è stata negli anni molto addietro quando le linee di Ulmer vennero qua a Brescia, ma noi poi però mollammo il leggero che andò a Mantova. E metodi di lotta per raggiungere questa situazione, cosa siete disposti a fare? Ma intanto noi abbiamo il presidio permanente, i lavoratori MAC sono in sciopero con un'assemblea permanente a ore scaglionate a singhiozzo per impedire anche che si faccia magazzino di lamiere per poi poter chiudere e partire e andiamo avanti così, quando sappiamo, siccome fino a fine ottobre e metà novembre un pezzo ancora ci sono dentro i lavoratori, sappiamo anche nel momento in cui entra un camion per andare a caricare stampi così, allora si entra in assemblea permanente con sciopero, si bloccano i camion fuori oppure si fanno tornare indietro quelli che entrano, per adesso ci sono gli scioperi così e coi presidi che sono qua da settembre però, che controlliamo giorno e notte, questi metodi di lotta dopo è un divenire, perché poi adesso a 25 novembre parte se non c'è accordo la cassa integrazione straordinaria per cessa attività, per cui fino a novembre lavorano, poi vediamo, queste sono le ultime cose.